Questo tizio si è unito al mio server e sembrava che fosse nuovo, ha anche costruito una casa di terra nel mezzo del nulla. Non aveva molte cose dentro la base e quando ho guardato la sua cassa, tutto ciò che aveva era un bastoncino di legno. Ho continuato ad osservarlo quando casualmente ha iniziato a chiedere oggetto in chat. Dopo 5 minuti un giocatore si è tippato da lui, ma invece di aiutarlo ha iniziato a colpirlo e a griffare la sua base. Ha acceso la TNT e tutto è stato distrutto, e questo giocatore stava anche godendo di questa cosa. Dopo che il danno è stato fatto il nabo si è tippato alla base e sembrava tristissimo. Sapevo che non potevo lasciarlo così, quindi mi sono tolto la vanish per fargli una sorpresa. E lui sembrava super felice di vedermi, mi ha anche dato gli oggetti che gli erano rimasti. Dato che mi dispiaceva per lui gli ho dato un set in nederite OP, così può divertirsi nel server. E gli ho anche dato il rank migliore per un'ora, ma ciò che non sa è che ad ogni like può tenerlo un'ora in più. E ad ogni iscrizione gli regalerò uno stack di ciò che il commento con più like scrive, i P del server a schermo.